Daniele Cappelli Per il numero 2, Juliano Stendardo Per il numero 3, Stefano Luchini Per il 18, Luigi Giorgi Per il numero 17, Carlos Cardona Per il 21, Luca Ciccarini Per il numero 88, Davide Bientini Per il 28, Davide Brindio Per il numero 1, Giuseppe De Luca E con il 19, Eva Gustavo De Vist In patina, con il mister Stefano Luchino Per il numero 47, Andrea Mussigli Per il numero 5, Ione Scaloni Per il 6, Gianpaolo Bellini Per il 7, Marco Di Faria Per il numero 8, Ivan Radovanovic Per il 10, Giacomo Luchino Per il numero 11, Maxi Luchino Per il numero 13, Michele Canini Per il numero 3, che siamo del corso Con il numero 4, Fabio Pata E ora, riproponiamo per il Natalanta In immagine della sintesi della finale di Copenaria Per il 263, in cui l'Atalanta Grazie a una grande premessa Di domenica, in signora Vittorio 3-1 E sia giudicato il profeta